Ma è un momento difficile sicuramente, bisogna rimboccarsi le maniche, pensare solo al campo, cercare di allenarsi a testa bassa e reagire. Il problema nostro evidente è che fuori casa stiamo facendo male e approcciamo le partite un po' così, pure i primi 20 minuti di Lucca insomma non erano andati benissimo, ci hanno messo lì. Poi fortunatamente avevamo fatto gol, quindi bisognava comunque cercare di mantenere il risultato, quantomeno quando vai sotto provare a riprenderla e come all'Aquila è mancata la reazione e questo non può andare bene. Il campionato è equilibrato e le partite le devi giocare tutte alla morte perché comunque è molto livellato e non è facile fare il risultato contro nessuno. E' chiaro che questi scontri retti vanno affrontati in maniera diversa, soprattutto fuori casa, e vanno giocati alla morte perché ormai i punti sono quelli che sono e a noi ci servono come il pane. In casa approcciamo le partite meglio, secondo me siamo più combattivi e cerchiamo di imporre il nostro gioco. Penso che quello che ci manca appunto è la mentalità fuori casa che è evidente. Comunque all'inizio non mi aspettavo di stare in questo posto in classifica perché so benissimo le capacità di questa squadra, del mister, e la differenza con l'altro anno è troppo lampante, mi dispiace insomma. Il mister penso che è imprescindibile per risalire la classifica. L'altro anno ha fatto la differenza perché con poche settimane ci ha insegnato come giocare con un modulo totalmente nuovo e penso che anche quest'anno sarà decisivo appunto per risalire la classifica.